Ciao a tutti! Bentornati sul nostro canale! Allora, visto che l'ultimo tutorial che abbiamo fatto è stato il salto avanti, oggi facciamo una sfida di salti avanti, stoppati! Chi ne fa prima tre qui al tumbling vince! Tutto in fondo! Inizia, Nelly! Via! No! 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 E l'ho fatto! Uno! Chiara! No! 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 Onelli, uno chiara. No, peccato. Uno ami. Uno per uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Sì, che vale. Due. Sì, ha mosso solo le braccia, vale. Due Nelli, uno chiara, uno amira. Due Nelli, due chiara, uno amira. Oh, che bel giro. Tutti stoppati. Due pari. Vince Amira. Terzo. Lasciate un bel like perché 300 like per la prossima sfida. Iscriviti al canale. Sperate la campanita di video. Ciao a tutti. Ci vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ahahahah